in questo video andremo a vedere il nuovo Eureka E20 Plus cosa ha di speciale questo robot aspirapolvere lo vedete direttamente nella base non ha sacchetti significa che ogni volta che svuota i peli ogni volta che svuota la polvere finisce direttamente in questo serbatoio che potete smontare e buttare direttamente nelle cestine genialata qualcuno di voi direbbe assolutamente sì ma attenzione secondo me non è tanto per risparmiare sui sacchetti perché veramente se consideriamo il costo di questi sacchetti se li andiamo a spalmare in tutto l'anno è veramente esiguo perché avete il vantaggio in quel caso prendete il sacchetto lo buttate e la base è già pulita qui che cosa dovete fare dovete un po' staccare la base procedere con una manutenzione insomma perdete un pochino di tempo però avete quel vantaggio di non dover andare a mettere i sacchetti quindi chi sono i veri interessati a questo robot aspirapolvere non tante le persone che vogliono risparmiare sui sacchetti perché appunto ormai i sacchetti costano veramente poco ma per tutti i proprietari di cani, gatti magari di grandi dimensioni che sono in casa perdono tantissimo pelo e capita che i robot aspirapolvere classici nel giro di una o due settimane hanno già il sacchetto pieno ecco in questo caso invece questo problema lo vai a risolvere perché ha un serbatoio da due litri e una volta pieno lo riesce a svuotare è vero? è un robot di fascia media ma comunque andremo a vedere che Eureka ha fatto un ottimo lavoro per esempio rispetto al modello precedente ha migliorato il riconoscimento degli ostacoli che gli permette anche in caso di visione notturna di andare a riconoscere questi ostacoli e fare comunque una bella pulizia lo andiamo subito a mettere sul pavimento così vediamo un po' le specifiche tecniche come l'applicazione per poi giungere alle conclusioni classiche finali dentro la confezione cosa troverete? troverete il vostro robot con la base autosvotante in più degli accessori lo segnalo perché spesso non ci sono questi accessori qui invece ce li abbiamo un filtro Epa in più e anche un panno per il lavaggio magari lo metti in lavatrice mentre l'altro continua a pulire ci sono le due spazzole ma quelle vanno subito installate così come anche c'è il manuale con la garanzia è uno dei robot più compatti sul mercato disponibile in due colorazioni nera e bianca magari io vi consiglio la colorazione bianca se volete evitare che si veda un po' la polvere in ogni caso sono sorpreso di questo robot perché nonostante sia di fascia economica media utilizza dei materiali soprattutto il robot non tanto la base ma il robot sembra che utilizzi materiali plastiche decisamente di alto livello magari se avesse utilizzato delle plastiche un pochino più economiche sarebbe costato qualcosina in più ma secondo me ci sta perché comunque qualcuno che vuole risparmiare ma anche i materiali il design deve fare assolutamente la differenza rispetto magari altri brand abbiamo come vi ho detto colorazione bianca nera dimensioni compatte perché abbiamo una profondità di circa 25-26 cm una larghezza di 18 cm e un'altezza di 44 cm il robot 35 cm di diametro con un'altezza di 9,7 cm il robot non solo aspira ma come vi ho detto se c'è il panno lava anche è un panno classico non vibra, non fa niente va a trascinamento però ha il sollevamento di 10 mm significa che c'è un tappeto lui solleva il panno per non bagnarlo un'altra caratteristica che altri robot non hanno abbiamo qui il suo serbatoio principale dove abbiamo sia la polvere e vi faccio sentire la voce perché la voce è veramente una tra le più professionali sentite? installare la vaschetta raccogli polvere mai sentito una voce così bella corposa, professionale? abbiamo un filtro qui dove andiamo a contenere la polvere circa 220 ml e qui dentro invece mettiamo l'acqua 230 mm attenzione c'è un sensore che capisce quando il serbatoio è pieno o vuoto quindi quando mancherà l'acqua ti arriverà la notifica dall'app anche questa cosa da non sottovalutare perché in altri robot non viene segnalato te ne devi accorgere tu qui sotto abbiamo i due nuovi sistemi per lo spazzolamento che in questo caso è doppio Polarac è vantaggioso vantaggioso uno sicuramente dirà è vantaggioso sì per raccogliere magari la polvere ma in caso di tappeti soprattutto quelli piccoli tende un pochino ad aggrovegliarsi soprattutto anche quando si avvicini ai letti magari ci sono le coperte per terra avendo due spazzole rischio che si aggrovigli abbiamo i sensori comunque antigaduta con riconoscimento tappeto e abbiamo la spazzola principale pensata per i peli di cani e gatti magari per i capelli lunghi non abbiamo il classico sistema antigrovigliamento però per appunto quel principio che vi ho detto all'inizio ovvero cercare di avere un aiuto per quei peli di cani e gatti questa spazzola va assolutamente bene qui abbiamo il classico panno che si riesce a rimuovere per eventuale manutenzione il principale vantaggio rispetto al modello principale è che è stato migliorato l'algoritmo e in più abbiamo un sistema migliore per la visione soprattutto quando non c'è la luce ci sono degli infrarossi ci sono dei nuovi sistemi che riconoscono anche gli ostacoli non tutti rispetto a quelli con la fotocamera ma sicuramente meglio di quei robot che invece non hanno questo sistema a livello di aspirazione abbiamo ben 8000 pascal massimi con la possibilità quindi di raccogliere briciole, capelli, peli dal pavimento quello che mi piace è l'algoritmo di pulizia che si avvicina tantissimo ai più avanzati Dreamy e Roborock lui se lo prendi lo sposti in un'altra stanza non è stupido riesce grazie alla toretta leader a capire dove si trova e riprende la pulizia senza impazzire lo dico perché ci sono dei robot invece dove questo non avviene si disorientano e devi rifare la pulizia a livello di algoritmo lui procede prima con la pulizia lungo i profili muri mobili quindi lungo i bordi per poi fare una pulizia più avanzata verso l'interno ho visto tramite briciole tramite peli di animale soprattutto i peli di animale lui riesce a raccogliere tutto lo sporco anche le briciole comprese con l'aspirazione standard mentre quando sale sui tappeti oltre ad alzare il mocio quindi non va a bagnarlo lui aumenta anche l'aspirazione ho visto che sui tappeti con le briciole nessun problema riesce ad aspirarle l'unica cosa magari con i peli del cane gatto non essendo che ha un'aspirazione super potente rispetto ai top di gamma che ormai hanno 18.000 pascal lui magari qualcosina la lascia ma è sufficiente secondo me farlo ritornare più volte in quella zona per riuscire insomma a togliere il più possibile questi peli complessivamente si è comportato molto bene e mi è piaciuto il fatto che è sempre ritornato alla base non mi è mai capitato che non sapesse dove si trovasse la base anche se eventualmente l'ho spostato a un pochino di posizione parlando del lavaggio invece lì parliamo di un lavaggio piuttosto classico normale infatti non ha la base che pulisce il mocio dovete voi pulirlo ogni volta manualmente però mi è piaciuto il fatto che abbiamo un sensore che riconosce la quantità di acqua se manca l'acqua te lo dicevi up e mi è piaciuto il fatto che è motorizzato quindi abbiamo dell'acqua che possiamo regolare per esempio in un parquet non vogliamo che bagni tantissimo potete mettere l'acqua al minimo quanto riguarda l'evitamento degli ostacoli come abbiamo detto non ha una fotocamera ma ha un suo sistema che gli permette di riconoscere in 3D gli ostacoli anche al buio devo dire non ha fatto male infatti ho posizionato dei calzini li ha evitati ho posizionato le scarpe le ha leggermente toccate ma alla fine è riuscito a pulire attorno l'unico ostacolo che l'ha messo un po' in crisi è il cavo di un alimentatore per smartphone qui mi direte Poderac ma io se volevo la perfezione spendevo 1000 euro effettivamente avete ragione è un robot che ovviamente qualche compromesso lo deve avere da questo punto di vista quindi accettiamo questa cosa basta mantenere un po' la casa ordinata questa è l'applicazione devo dire rispetto a G20 è migliorata molto abbiamo informazioni in italiano tradotte meglio e abbiamo anche qualche funzione in più in questo caso abbiamo nella home la possibilità di avviare subito una pulizia se premiamo vediamo la nostra mappa considerate che questa è una suddivisione che ha fatto in maniera automatica senza fotocamera e addirittura ha fatto la divisione meglio di alcuni robot che invece la telecamera ce l'hanno è riuscito a dividere in maniera intelligente tutte le varie stanze a livello di aspirazione abbiamo tre livelli di aspirazione per sfruttare con turbo gli 8000 pascal oppure mettere un'aspirazione più leggera attenzione per l'aspirazione più leggera conviene solo per i peli per la polvere io lascerei almeno standard quattro livelli per il lavaggio quantità di acqua sufficiente per coprire un appartamento di 70 metri quadri attenzione dovete impostare un livello abbastanza contenuto ovviamente non ha nulla a che vedere con quelli con il mocio è più un supporto per andare a togliere quella polvere che magari rimane appiccicata nulla di più perché il panno non vibra però cosa intelligentissima hanno messo che se c'è un tappeto possiamo fargli sollevare il panno di 10 mm senza quindi bagnare il tappeto sarebbe stato figo sfruttare appieno questa funzione per esempio se io devo andare a pulire la stanza qui in fondo cosa fa lui? lui comunque il panno lo mantiene abbassato dalla stanza B fino alla stanza F sarebbe stato figo che il panno si abbassasse solo effettivamente per esempio nella stanza che io indico pure nella zona parlando adesso di varie funzioni possiamo avviare una pulizia ovvero di 3 cicli per 3 volte deve ripassare la stessa zona a livello di aspirazione e lavaggio vi ho già detto tutto possiamo fare una pulizia completa o una pulizia a zona ovvero noi andiamo a impostare tutte le varie icone fino a 5 zone dove il robot dovrà insomma andare a pulire e gestire tutto quanto abbiamo il robot pieno in qualsiasi momento raccolta della polvere e vedete parte lo svuotamento vi segnavo la gestione multimappa avete una casa da più piani basta spostare il robot la base è anche leggera infatti si può prendere con la maniglia sopra e potete portarlo in diverse stanze basta andare qui vedete io ho creato due mappe a livello di impostazioni possiamo fare la pulizia programmata ovvero ogni ora ogni giorno possiamo dirgli guarda fai determinate cose tipo aspira solamente o lava e possiamo dire anche eventuali quali stanze deve effettuare questo tipo di operazione se deve escludere alcune stanze potete dirlo sempre nella programmazione vedete come si sta ampliando rispetto j20 a livello di impostazioni abbiamo poi il nostro linguaggio che avete sentito è forse uno tra i migliori vi faccio sentire la voce installare una delle migliori voci installate sul robot aspira polvere poterà che è una cosa che interessa no però magari è più piacevole lo voglio segnalare giusto magari per gli altri che invece hanno delle voci un po più robotiche possiamo impostare ogni volta quante volte si deve svuotare dite o povera che si svuota ogni 5 minuti dite guarda svuotati ogni tot polizie così come anche potete dire guarda cerca di a fare un'aspirazione rapida o un po più profonda perché il mio cane mi lascia troppi peli abbiamo anche adorata degli accessori ogni volta quando vanno sostituiti o puliti controllo manuale ovvero abbiamo il telecomandino e gli diciamo noi dove deve pulire il robot e poi basta giungiamo alle conclusioni per capire quando acquistare questo robot abbiamo secondo me due categorie di persone quelle che effettivamente hanno un problema e questo robot glielo risolve e quelle persone che devono fare attenzione a non farsi accecare dal marketing qual è lo scopo di questo robot loro scopo è dirvi guardate prendere questo robot così non spendete in sacchetti ma c'è una determinata condizione secondo me da tenere a mente torniamo al primo gruppetto di persone che effettivamente hanno un problema ovvero cani gatti di grosse dimensioni che perdono tantissimo pelo e nel giro di una due settimane vi riempiono il sacchetto allora sì ogni una due settimane devi cambiare il sacchetto in quel caso può risultare molto utile e assolutamente più vantaggioso a livello costoso acquistare un robot di questo livello se invece non vuoi acquistare i sacchetti ma in realtà non hai questo problema cioè se dovessi acquistare un robot tu il sacchetto lo vai a svuotare ogni due tre mesi anche se hai un cane ma di piccole dimensioni non perde tantissimi peli allora secondo me non ha senso considerare l'acquisto solo per questo perché ormai i sacchetti costano veramente poco e due tre mesi mi sembrano già un tempo normale anzi addirittura alcuni robot dopo tre quattro cinque mesi dipende ovviamente quanto sporco avete in casa il vantaggio dei sacchetti che tu una volta tolti non devi pulire la base in questo caso invece devi fare una manutenzione anche alla base che ti può richiedere quei 10 15 minuti ma non è tanto per la manutenzione ma se sei allergico alla polvere hai problemi magari con allergie di peli di gatto cane può diventare un problema avere insomma questi peli che sono un pochino all'aperto mentre con il sacchetto tu togli e il robot torna bello che pulito ecco questo è quello che voglio dire quando vi dico non fatevi accecare dal marketing ci sono situazioni dove effettivamente questo robot è essenziale e terrei un altro fattore se appunto siete la prima casistica ovvero avete un cane grosso che vi perde tanto pelo la seconda casistica secondo me ha senso quando si trova a meno di 400 euro perché complessivamente effettivamente è un robot ben costruito l'algoritmo è buono ma comunque sempre meglio a meno di 400 euro e ogni tanto ci va a questi prezzi vi consiglio di entrare nel canale delle offerte dove avete modo di tenere d'occhio questo altro parametro così come vi ricordo oltre al link per acquistare questo robot direttamente su amazon c'è anche il link per entrare nel gruppo facebook dedicato ai robot aspirapolvere dove avete la possibilità di seguire consigli se avete altri dubbi domande curiosità potete farle lì se avete intenzione di avere un aiuto a riguardo la manutenzione del robot anche lì potete chiedere insomma tutto quello che volete è un buon modo per rimanere aggiornato su questo mondo che come avete visto è veramente ampio e in continua crescita detto questo spero che il video vi sia stato utile se così lasciate mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao